Musica 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 Viva! 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 Grazie a tutti. Significa dopo averli salutati, San Vincenzo Martire in questo momento li trova, li raggiunge lì, in tutti i vicoli, in tutte le parti del mondo, i tripezzi che gloriosi possono in San Vincenzo acologi, donare e ringraziare il Signore. E viva San Vincenzo! E viva San Vincenzo! E adesso riferiamoci alla benedizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benedici e illumina il pensiero e sorreggi la volontà nelle vie di Dio. In ogni angolo remoto di questa terra giunga, foriero di bene, un tuo raggio e ci guidi nella via del tempo per ricongiungerci alla luce della vita eterna. Amen. San Vincenzo, ora pro nobis. E viva San Vincenzo! E viva San Vincenzo! Salva a tutti. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!